Si alzano le voci a sostegno del trasferimento definitivo del fondo di archivio processuale del Vaiont all'archivio di Stato di Belluno, dove è al momento temporaneamente conservato. In risposta ad un'interrogazione dei deputati del PD Rachele Scarpe e Piero Fassino, nei giorni scorsi il Ministero della Cultura ha risposto che una volta terminata la digitalizzazione dei documenti, le carte dovranno tornare all'Aquila, città dove si svolge il processo. Così prescrive la legge. Ma per Irma Visalli, già Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Vaiont e fautrice dell'iscrizione dell'archivio del Vaiont nel registro internazionale del programma UNESCO Memory of the World, avvenuto ufficialmente un anno fa, in un caso come questo la politica dovrebbe fare un passo in avanti. È il principio che ha espresso il Presidente Mattarella il 9 ottobre, in cui ha detto questo disastro è talmente unico e deve essere talmente di monito che gli atti del processo devono rimanere il più vicino possibile alle comunità che custodiscono ancora e il dolore, ma anche possono essere da tramite per il monito per le generazioni future. Per Visalli la questione va legata anche all'unicità del Fondo Processuale del Vaiont, che è il motivo per il quale è stato iscritto al registro UNESCO. Non solo è una storia unica al mondo, ma è anche un fondo processuale unico al mondo. L'unico ad esempio dove i ragazzi possono entrare nell'archivio e trovare un plastico fatto dal giudice Fabri, in cui si capisce, materialmente si capisce cosa accadde, cosa c'era prima, cosa c'era dopo. Un'unicità che si esprime anche con la contiguità del Fondo del Vaiont con un territorio dichiarato nel 2009 patrimonio naturale dell'umanità. Qui che ti affaccia la finestra e vedi il più grande paesaggio del mondo, il più bello del mondo, riconosciuto proprio anche perché le sue genti lo hanno saputo mantenere, dall'altro un disastro. Ma la diga è lì a testimoniare che quel disastro non l'ha voluto la natura, l'ha voluto l'uomo. Di volontà politica parla anche il segretario provinciale del PD, Alessandro Delbianco. Basta un emendamento, quindi è solo questione di volontà politica e gli atti processuali possono essere costruiti in provincia di Belluno e credo che sia appunto un ragionamento più che doveroso.